Il comune di Napoli si costituisce parte civile nel processo per l'omicidio di Lino Romano, la vittima innocente della camorra caduta lo scorso ottobre nel quartiere Marianella per un tragico scambio di persona. È quanto stabilito da una delibera della giunta comunale adottata venerdì scorso. La prima audienza del processo è in calendario lunedì prossimo. Oggi comincia anche una nuova stagione, cioè quello di partecipare fisicamente con esponenti dell'amministrazione alle udienze più significative, a cominciare dalla prima. Quindi non ci sarà solo l'avvocatura, ci sarà una presenza dell'amministrazione a dimostrazione del fatto che questa giunta è schierata in prima linea contro la barbarie, contro la violenza e contro la camorra.